Gastronomia e sociale, la birrozza col papillon la chiamano, artigianale salentina, ottenuta da grano biologico senatore Cappelli. Vestita con un accessorio made in carcere, realizzato cioè dalle detenute dei penitenziari pugliesi, seguite dall'associazione officina creativa, che ne promuove il reinserimento nel mondo del lavoro, attraverso la produzione di oggetti fatti con materiali di scarto. I papillon sono uno diverso dall'altro, sono 2000, tante quante sono le donne detenute in Italia, realizzati utilizzando materiali di scarto e di riciclo. Sono molto belli, molto colorati, quindi bevendo, comprando, regalando la birrozza col papillon si contribuisce a questa iniziativa. Perché birrozza? Birrozza è un nome simpatico, frizzante, giovanile, ci facciamo una birrozza. Ingredienti? La caratteristica della birrozza è la presenza di grano Cappelli biologico salentino coltivato nel Salento. E' una vecchia varietà di grano coltivato in Puglia, nel sud Italia in generale, che viene valorizzato e utilizzato come materia prima nella birrozza. Al vecchio gazebo di Molfetta il binomio è con la pizza, ma non solo. E' un binomio che va alla grande, ma soprattutto ora cerchiamo di andare oltre al discorso pizza e quindi abbinarlo anche a degli antipasti e perché no anche con un dolce.